Parlo a un pubblico che ha già ascoltato altre conferenze, e così non è casuale trovare questo primo festival, questa festa del Medioevo nel centro del Marchesato di Saluzzo, perché chiunque di voi sia orgoglioso della storia della propria città sa benissimo che questo è stato un centro, è stato un centro propulsore di un'importanza enorme, non abbastanza conosciuta o riconosciuta, ma insomma ha una grandissima importanza nella storia del nostro paese. Più importante di tutto il resto è il Piemonte, diciamo la verità, questo è il più di tutto più importante. Le ferite ancora aperte di cui mi occupo, breve, incipita, anche qui non ho bisogno di leggervi niente, ma per spiegare di che cosa voglio parlare, io man mano che negli anni ho studiato, ho insegnato storia all'università, ma mi sono reso conto che noi abbiamo un atteggiamento, siamo come un corpo, un essere umano, uno di voi, me, che nella vita si è fatto delle ferite e poi le ha curate finché queste ferite erano doloranti, che gli provocavano appunto patimenti e poi man mano che il tempo passava le ha lasciate perdere, si è accontentato di vedere delle apparenti cicatrizzazioni, ma le ha lasciate perdere. E queste ferite mal curate, mal sorvegliate, di fatto tendono a riaprirsi, soprattutto se se ne producono altre nella stessa zona del corpo, io sto parlando di un corpo umano, ma voi capite benissimo che sto parlando del passato. E per cui il corpo della storia, il corpo del mondo in cui viviamo, è come un corpo piagato da ferite, mal sorvegliate, mal curate, mai guarite e intrecciate tra di loro in un insieme che per un medico è incomprensibile. Allora qual è il compito delle persone come me o quale dovrebbe essere il compito delle persone come me? è quello di andarle a riscoprire queste ferite, che sono tante, scoprirne le differenze, disinfettarle, sorvegliarle, a questo punto non avere l'ambizione che guariscano per sempre, ma che non possano più infettare l'una l'altra e che rendano a questo corpo, che è il corpo, il risultato della storia che abbiamo alle spalle, rendano la vita più agevole nella consapevolezza che è un corpo ferito, che è un corpo martoriato, ma che ha ancora davanti a sé una lunga vita e che se queste ferite vengono curate, la vita sarà senz'altro migliore, poi altri verranno, conosceranno la storia di queste ferite e la vita andrà avanti, perché di una cosa, e ne parlerò, sarà l'epicentro di questa mia chiacchierata sul Medioevo, bisogna essere certi, la storia dell'umanità ci dimostra che varie volte si è pensato, soprattutto le generazioni più anziane, oddio, siamo alla fine, i tempi passati sono stati gli ultimi meravigliosi, ma adesso le cose non fanno che peggiorare e queste sensazioni erano sempre fallaci, bisogna avere fiducia, non per generosità verso se stessi, i propri figli e i propri nipoti, ma perché la storia ci insegna che le cose sono andate sempre così, che quando si ha l'impressione che tutto sia catastrofico, sia una catastrofe da cui non ti risolleverai mai più, pensate alle generazioni dopo la fine della prima guerra mondiale, dopo la fine della seconda guerra mondiale, quello invece è il momento in cui l'unità, l'umanità compie un salto, compie un salto, non solo si riprende, ma compie un salto, fa in pochi anni, in una decina, una ventina d'anni, fa un percorso che precedentemente c'erano voluti centinaia di anni per fare, l'umanità si calcola che nell'umanità che uscì dalla seconda guerra mondiale, anche italiana, negli anni fra il 1945 e il 1950, aveva molte più cose in comune con quella di 2000 anni prima che con quella di adesso, l'umanità oggi è irriconoscibile, negli anni che passano fra il secondo dopoguerra, quel quinquennio 1945 e 1950, l'età dei vostri padri o forse dei vostri nonni, per qualcuno i più anziani se la ricordano, era un mondo che per gli spostamenti, per le abitudini, certo erano intervenute nel frattempo l'elettricità, ma era un mondo che aveva più somiglianze con quello dell'antica Roma, per dire, che con quello in cui viviamo adesso, che è il mondo di internet e del mondo in cui, non solo internet, internet direi poco, è un mondo quasi irriconoscibile, ma anche rispetto a quello di 20 anni fa, in positivo. Bene, quando ci sono dei periodi tormentati come questo, pandemia più guerra, e sarà un tema su cui tornerò, anche questo nella nostra chiacchierata, si producono ferite, quelle sì, quasi mai rimarginabili, ma dopo è come se Dio riservasse un premio all'umanità, quando finisce, ci si hanno degli sbandamenti su quando è realmente finito, soprattutto sulle pandemie si fanno spesso delle confusioni, ma quando finisce inizia una stagione che fa compiere quel salto che vi dicevo essere stato compiuto sia dopo la prima che dopo la seconda guerra mondiale, in realtà anche dopo la peste nera del 300, ma entrerò subito in argomento e verrò al Medioevo. Cosa si può dire in conclusione di una iniziativa così importante e unica? Vorrei dirvi che questa iniziativa è particolarmente lodevole perché è unica, perché il Medioevo viene concepito ancora adesso nella scuola, in gran parte della scuola italiana, come dice la parola, un'età di mezzo che ci sono delle età dell'oro, l'antica Roma, l'antica Grecia e poi l'umanesimo, il rinascimento e in mezzo a questa età dell'oro, di luce, di meraviglie, di esplosione della civiltà, ci sta un migliaio di anni calcolato approssimativamente, che è un'età invece di buia, di peste, di flagelli, di caccia alle streghe, di oscurantismo e tutta la terminologia più negativa la potete usare, la potete trovare perché è applicata. Cioè il fatto età di mezzo. Vi dico subito dove vado a parare, che il Medioevo non è affatto un'età di mezzo, ma è la stagione fondamentale della storia dell'umanità e che al confronto del Medioevo e dell'importanza del Medioevo, tutto ciò che è avvenuto prima e tutto ciò che è avvenuto dopo ha importanza, storico non potrei negare l'importanza, ma è niente rispetto all'importanza del Medioevo. Oggi andrebbe ribaltato lo studio della storia tenendo a protagonista, innanzitutto eliminando la parola Medioevo, scomponendo le stagioni di questo millennio e assurdo, in realtà Medioevo non esiste, è semplicemente un calderone che è data dal caduto dell'impero romano a Romulo Augusto, il passaggio al primo barbaro d'Oacre, il 476 d.C. fino a mille anni dopo. Una cosa curiosa che dimostra quello che sto dicendo e che è il test da cui si capisce che il Medioevo non esiste, è che del Medioevo si sa qual è la data convenzionale di inizio, tutte le date in storia sono convenzionali, ma questa si sa e invece non si sa la data della fine. Se voi chiedete a una persona di media cultura, ma anche un professore di liceo, per favore scusami, so che il Medioevo è cominciato nel 476, il passaggio ai regni romano barbarici, mi sfugge in questo momento in che hanno finito sempre le date convenzionali, non esiste la data convenzionale di chiusura del Medioevo e questo ha dei motivi, perché il Medioevo ognuno dal Cinquecento in poi se l'è fatto finire come gli faceva più comodo, nel senso che per i grandi umanisti del rinascimento del Quattrocento era finito alla fine del Trecento o all'inizio, cioè quando sono parsi loro sulla scena, per gli uomini del Cinquecento comprendeva come una fine d'oro quella del Rinascimento, ma è finito quando sono arrivati loro e questo è continuato fino alla rivoluzione francese, quindi alla fine del Settecento, quando per gli illuministi del Settecento e poi per i rivoluzionari francesi, vedete nei testi della rivoluzione francese loro trattano come Medioevo tutto ciò che li ha preceduti, tutto il Regno fino al 1789, tutto Medioevo e quindi un curioso fenomeno che si estende con tre secoli di distanza come data finale, dove ne pongono alla fine alcune culture politiche e dove ne pongono alla fine altre, addirittura per i russi nel 17 e avevano più titoli perché in Russia la servitù della Gleba era stata abolita solo negli anni Sessanta dell'Ottocento, il Medioevo era finito, era durato anche con Romanov, era finito con la rivoluzione d'Ottobre, con l'Ottobre del 17 e già un periodo storico, è curioso, è l'unico periodo storico di cui si conosce, diciamo sempre sono date convenzionali, ve lo riporterò fino alla fine di questa chiacchierata conferenza, ma è curioso appunto che non si conosca alla data della fine. E poi mille anni, mille anni sono troppi per concepire, è anche assurdo stringerli in un anno, credo che sia il secondo liceo, ancora se il liceo classico è come quando ero piccolo io, l'anno dedicato al Medioevo e il modo di studiarlo e di aggredirlo lascia le idee confuse. Tra l'altro il Medioevo è stretto parente di un fenomeno, altri più fenomeni che hanno le stesse caratteristiche. Uno è l'impero bizantino, Bisanzio, viene trasformato in Costantinopoli da Costantino nel 330 avanti Cristo e viene sopraffatta dai turchi nel 1453. Quindi l'impero bizantino poi si trasforma in vero e proprio impero bizantino nel VII secolo, ma dura 1150 anni, 1130 anni. E anche di quello, che cos'è? Chissà, insomma, ognuno si faccia un esame di se stesso, com'è possibile che due fenomeni così importanti come il Medioevo di cui vi ho appena detto e l'impero bizantino, dicevo stretto parente perché più o meno, come vedete, si estende su un arco temporale simile, non se ne sappia quasi niente. E dell'impero ottomano che nacque, era nato due secoli prima della caduta di Costantinopoli, anzi un secolo e mezzo in realtà, e che sopravvisse fino alla fine della prima guerra mondiale, che si sa, sei secoli. Questo per dirvi che la storia come l'abbiamo studiata e introiettata noi, è una storia che praticamente isola delle zone di luce, l'antica Roma, la Grecia di Pericler, Roma di Cesare, poi di Augusto e poi l'età appunto del Rinascimento, ma isola dei momenti storici e prescinde dai grandi e importanti movimenti che hanno fatto la storia dell'umanità. È come se noi avessimo delle cartoline isolate ma perdessimo, avessimo lasciato che perdesse senso, che perdesse senso proprio la stagione medievale che è la stagione motrice di tutto quello che siamo stati dopo e che siamo ancora adesso. Nulla delle cose che capitano nel mondo che ci circonda è comprensibile senza una conoscenza almeno superficiale del Medioevo. Tutto ciò che capita nel mondo, nella crisi d'Ucraina, tutto ciò che capita in Medio Oriente, tutte quelle storie lì hanno tutte origini precise nel Medioevo e nella storia coeva dell'impero bizantino. Ma allora perché c'è questa maledizione sul Medioevo? Perché viene descritta come un'età buia? Innanzitutto il primo è un trucco che usano gli storici, ancora adesso noi usiamo il termine medievale per deprimere, per parlare male di qualcosa, di un atteggiamento, di un'istituzione e il Medioevo era una categoria inventata per magnificare se stessi, cioè per dire adesso sì che siamo arrivati noi portatori di civiltà prima era il regno delle tenebre e quindi era consostanziale usare la parola, il termine Medioevo e descrivere questo regno delle tenebre. Poi durante il Medioevo ci furono, e questo è ovvio, ci furono una peste, la peste del 1300, la peste nera, la peste a metà del Medioevo che si portò via tra un terzo e metà dell'umanità allora conosciuta, cioè dell'umanità europea e probabilmente ed è una peste che si ripresentò varie volte, cioè che ebbe un decorso iniziale fra 1348 e 1351, 1352, ma poi di triennio in triennio quando sembrava che fosse finita si riaffacciava e ogni volta per tutti i 50 anni successivi ovviamente stiamo parlando di una peste che era un'epidemia come sarebbe stata quella del Covid, ma prescientifica, non si sapeva niente, ancora nel 1630 per dirvi la concezione innanzitutto come nasceva la peste, si è abbastanza bene ricostruita, la peste aveva origini asiatiche, sempre ha avuto origini asiatiche, le crisi pestinenziali, durante l'assedio dei mongoli a Caffa in Crimea, tornano sempre i nomi dei posti che noi conosciamo e ci sono sempre degli italiani, veneziani, genovesi, di mezzo, dicevo, durante l'assedio dei mongoli a Caffa a un certo momento capitò una cosa strana, che i mongoli che stavano perdendo non riuscivano a prendere questa città, cominciarono a fare una cosa che fino a quel momento non si era mai vista, a catapultare i propri morti dentro la città. Ben presto gli abitanti di Caffa capirono di che cosa si trattava, fu una prima forma che si conosca di guerra batteriologica, loro avevano visto il tasso di mortalità che poi fu una delle cose che fermò l'orda d'oro, che fermò l'invasione mongola dell'Europa, avevano visto il tasso di mortalità che aveva prodotto la peste, probabilmente era vaiolo, non si sa bene, può essere anche morbillo, non si sa quale forma specifica, la peste era un'addizione generica, insomma avevano capito che anche i morti contagiavano e continuavano a contagiare e dissero perché ce li dobbiamo godere solo noi questi contagi, diamoli a loro e una città chiusa dove capitavano dei morti, questi non sapevano, tra l'altro erano dei morti che loro avevano ben addobbato per rendere misteriose, non erano dei morti putrefatti e stracciati, ma dei morti anche con dei monili in modo che questi, gli abitanti di Caffa se li toccassero, non capirono, come nessuno avrebbe potuto capire, furono contagiati e soprattutto non capirono, la natura del contagio si capì solo nell'Ottocento, ancora nel Trecento, ma ancora nel Seicento la peste manzoniana non se ne capiva la natura, c'è tutta la dissertazione nei promessi esposi sulla peste e anzi si è pensato in tutti questi anni già dalla peste di Pericle nel V secolo in Atene, la peste di Atene quella che portò via Pericle nel V secolo avanti Cristo, poi la peste Antonina, ogni volta si pensava che fosse la punizione degli dèi o di Dio nei confronti di qualche malafatta, qualche cosa che l'umanità aveva fatto non per il verso giusto e la reazione, c'è un famoso passaggio sia nei promessi esposi che nella storia della colonna infame che sembrava che la risposta doveva essere degli atti penitenziali nei confronti di Dio e poi soprattutto delle processioni che invece come capita bene erano un momento di contagio ulteriore, quindi si diffondeva ancora di più la peste, ancora di più si facevano messe processioni e questa cosa portava a quello che era più spaventoso e che come voi ricorderete fu spaventoso anche all'inizio della pandemia di non sapere bene di che cosa si trattava e che fine si sarebbe fatto. Benissimo, la peste fu, la peste e le guerre e le carestie furono quello che diede la tinta scura e cupa al Medioevo, però furono anche da tutti gli studi furono anche qualcosa che produsse un lancio dell'economia clamorosa, nel senso che ridusse, mi tocca parlarne cinicamente, ma gli studi del Medioevo, sul Medioevo queste cose ormai le hanno accertate, ridusse l'umanità, gli uomini capaci di lavorare erano ridotti e quindi passarono, una volta che la peste fu finita, che iniziarono a riprendersi, passarono da valorizzare il lavoro, è il momento in cui la seconda metà del Trecento in cui si capisce cos'è la forza lavoro, prima di Marx il valore di questa forza lavoro fu capito appunto nella seconda metà del Trecento che non a caso fece nascere anche all'interno del mondo cattolico le prime eresie, siamo molti anni prima di Lutero che come voi sapete è un fenomeno del Cinquecento, ma le prime forme di eresie di tipo, lo dico fra virgolette comuniste e anche Valdesi e Catari ebbero queste forme di eresie, lo dico sempre tra virgolette comuniste, nel senso che cominciarono a capire che l'uomo non era un greggio, l'essere umano, uomini e donne non erano un greggio di persone destinate al lavoro e alla riproduzione di se stessi, ma che avevano un valore, essendoci penuria di uomini che lavoravano, gli uomini poterono dare maggior valore al loro lavoro e dire no questo non lo faccio, voglio più soldi e cominciarono a depositare questi soldi, accumulare, prima ne avevano semplicemente, insomma erano tenuti, non dico in uno stato bestiale perché l'umanità aveva già conosciuto un'evoluzione notevole fino a quel momento, ma in quel momento cominciarono a capire il senso di una vita che poteva essere spesa pur partendo da condizioni primordiali ad accumulare dei soldi, da investire per i figli, è un momento di fioritura delle banche, è piuttosto una leggenda che tutto fosse affidato all'usura, no è proprio la nascita delle banche che poi banche da cui le nascenti nazioni si fanno prestare dei soldi che non restituiscono perché le investono, le nascenti nazioni sto parlando soprattutto della Francia, ma anche della Spagna, dell'Inghilterra, si fanno prestare questi soldi dell'Olanda che poi non restituiscono, le banche falliscono, ma si mette in moto quel mondo che è il mondo che ci verrà dato in eredità, noi la mitologia per cui quello che abbiamo ricevuto in eredità è ciò che fu creato dagli antichi greci, dagli antichi romani, sopravvissuto alla crisi medievale, è una pura leggenda, noi non abbiamo, abbiamo a parte le rovine, i monumenti dell'antichità, ma noi siamo figli del mondo medievale, è lì che è nata, è stata concepita l'umanità, così come oggi, ovviamente con l'evoluzione che l'umanità poi ha avuto e se lo andiamo a vedere, anche l'idea che sia stato caratterizzato da guerra, a parte il fatto che è vero che durante il periodo che vi ho appena descritto del 300 c'è la celebrare di una guerra di cent'anni che poi di anni ne durò 116, ma è un insieme come le ferite di cui vi ho parlato all'inizio, un insieme di guerre intrecciate tra loro, ma sono niente queste guerre in confronto a una guerra ben più spaventosa che è la guerra dei 30 anni, che è una guerra del 600, quindi via del Medioevo allontanato, ben allontanato e ben alle spalle, dal 1618 al 1648 e che anche quella è fatta di guerre intrecciate, guerre di religione, alla fine della quale lo spavento era tale per questa guerra dei 30 anni che si concluse con un trattato, il trattato di Vesfalia che sembrava che poi non ci sarebbero state più guerre, invece purtroppo è un'illusione che ci si fa sempre dopo le grandi guerre spaventose e sono spaventose nel senso che le guerre antiche erano guerre combattute in delle piane da degli uomini, degli opliti che morivano in grande quantità, ma tutto si risolveva lì. Le guerre diventano sempre più spaventose man mano che coinvolgono i civili e i civili vengono coinvolti fino alla guerra dei 30 anni perché le druppe passano, saccheggiano, prendono, ma poi sempre di più fino alle guerre del 900, di cui tutto sapete anche le guerre come vedete che avete occasione di vedere oggi vengono combattute distruggendo intere città, dove gli ammazzamenti sono un fatto quasi minore rispetto alla distruzione della vita, oggi quella cosa che mi fa più impressione, scusate ogni tanto non posso parlare il medioevo senza parlare anche di quello che mi appare come frutto, i frutti malati del medioevo, appunto dicevo distruggere la vita intorno, quando tu vedi distruggere case, impianti elettrici, apparecchiature più volte, intere città, rase al suolo, ti immagini che il dolore sia per le persone morte, uccise, ma anche per i sopravvissuti che innanzitutto non sanno quando finiranno di piovere bombe sulle loro teste, ma poi non sanno soprattutto in che mondo vivranno se tutto intorno gli è stato distrutto e chi si occuperà di loro. Vi descrivo questa sensazione perché questa è la sensazione che vive l'umanità nella parte finale del medioevo. Io adotto l'antica convenzione per cui lo do per finito con la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento, molti aspetti è vero del medioevo si riproducono, ma il Trecento è secondo me l'anno culmine, l'anno di svolta, proprio perché è l'anno di una gigantesca guerra e di una gigantesca pandemia, di una gigantesca epidemia. E che cosa ci rimane del medioevo? Che cosa può interessarci oggi di andare a rivedere in questa seconda metà del Trecento? Beh, è una sensazione strana che a ognuno di noi sarà capitato di vivere. Primo la sensazione che non si finisce mai, perché ovviamente pandemia più guerre portano a momenti di crisi economiche, carestie, l'idea che va sempre peggio. Ecco, forse lo studio del medioevo può spiegarci che non è così, che è un'apparenza, la sensazione che possiamo avere noi oggi, che le cose sono, Dio quanto era meglio fino a 10, 20, 30, 40 anni fa, come era meglio tutto e adesso così non può che andare a finire peggio. Per i nostri figli sarà, guardate, è esattamente, almeno se uno si fida della lezione univoca però della storia, perché vi sto parlando di una cosa che si è sempre ripetuta per 3 mila anni, è esattamente il contrario. Nel momento in cui noi abbiamo l'impressione che tutto stia finendo, che le risorse energetiche non sai che fine faranno, che non c'è più, che tutti i prezzi aumentano, la povertà, il nostro tenore di vita tornerà quello che quasi neanche più ci ricordiamo di quando erano bambini, non è così. Da qualche parte del mondo, durante i Medievi, durante le pandemie, durante le guerre, c'è qualcuno che sta studiando e troverà, alla fine di questi studi, dei ritrovati tecnici, scientifici che faranno compiere l'umanità a un salto. E poi di queste sensazioni rimarrà traccia nelle lettere, nei romanzi, nei film che produciamo in questo periodo, ma nessuno si ricorderà più. Nessuno, lo dico, questo discorso lo faccio perché possono averne memoria quelli più adulti di voi. Nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, oggi tutti concordiamo che la stagione di sviluppo in cui l'Italia cominciò a salire fino ad arrivare a essere uno dei 5-7 paesi più importanti dell'umanità come tenore di vita, modernità, stile di vita, una delle sette potenze industriali del mondo, fu fra il 55 e il 1965. Quello fu il momento del salto al cosiddetto boom economico. Se vi capita in una TV privata, andate a vedere un film in bianco e nero, un film comico, un film descrittivo, della seconda metà degli anni 50 o dell'inizio degli anni 60. Vedrete, descritta un'umanità, sto parlando degli italiani, film italiani di quella stagione misera, che aveva ancora il problema della fame, che aveva il problema, non era già più così, bastava che si guardassero intorno. Il primo film che raccontò come stava cambiando l'Italia è un film del 1962 che si chiama Il sorpasso, è un film con Gasman e Trantignan di Norisi e fa vedere che è un'Italia che si muove, ancora un po' stracciona, però che si muove, che fa le vacanze a Castiglioncello, in Versiglia, che sente la musica, i jukebox, c'è gente che fa in barca, insomma si capisce che l'Italia è cambiata, ma fino a quel momento la percezione che gli italiani hanno di se stessi, anche dopo quel film mi sorpassano, se ne continuano a produrre di quelli che dicevo, è del tipo di cui vi ho riferito e del tipo che si aveva sicuramente nella seconda metà del 300, che si ha sicuramente oggi. La lezione del Medioevo è che è una impressione fallace, non lo dico per invitarvi all'ottimismo, ma perché, ripeto, la storia è lì a dimostrarci che invece sono questi periodi che producono un accumulo di energia e uno scatto che prima era impensabile. E allora noi storici ce lo siamo domandati, ma perché, cos'è? Dio ci ha mandato una maledizione e poi ci dà una ricompensa, non è per questo, è perché, visti col senno di poi, i periodi come questi, pandemie, guerre, grandi rivolgimenti politici e sociali, sono i periodi in cui ognuno torna a ripensare ai valori che ha sepolto dentro, riscopre quanto sono importanti i valori fondamentali e attaccati ai valori fondamentali ci sono quelle risorse di energia che rendono possibile il salto. Voglio dire che le società precedenti a queste crisi, pensate anche a noi, all'Europa, negli anni che hanno preceduto questa crisi pandemica e di guerra, sono anni in cui i paesi, le nazioni si inflaccidiscono, scusatemi l'uso di questo termine che non vuole essere offensivo, ma fanno debiti, non vogliono più fare lavori, li lasciano, hanno tutte in comunità, in comune questo tipo di caratteristiche, li fanno fare ai barbari, a gente venuta fuori, i lavori più faticosi e a poco a poco tendono a pensare che quelle ricchezze accumulate precedenti, precedentemente siano, che loro le possiedono per diritto divino e che non ci sia bisogno di andare avanti, di rimettersi in cammino. Il momento di crisi, il momento medievale della nostra vita, come questo che stiamo vivendo ed è per questo anche che da alcuni anni, come voi vedete, è strano, il Medioevo è disprezzato, è trattato come un'età cupa, un'età di mezzo, però appena c'è un romanzo, un film, una serie televisiva di argomente medievale, scatta un sesto senso dentro di noi per cui queste serie, questi film, questi libri hanno più successo di tutti gli altri, chiusa la parentesi, vi dicevo perché noi sappiamo che il Medioevo, la fase medievale della nostra vita, della nostra storia è quella in cui siamo costretti a riandare all'essenziale, siamo costretti a disfarci degli orpelli, a dire va bene, abbiamo capito, la vita precedente che facevamo era sbagliata, la vita precedente che facevamo fare ai nostri figli e nipoti era sbagliata, o almeno era sbagliata sotto questo aspetto, è ora di rimettersi in cammino, è ora che l'umanità riprenda la sua strada e quello è nella natura stessa dell'uomo, è come se avesse bisogno di una crisi per avere quella spinta e quella energia vitale a rimettersi in cammino. Poi attribuirà, ed è l'ultima cosa che vi voglio dire, attribuirà alla stagione precedente, sarà diverso, esattamente l'opposto di quello che è adesso, mentre adesso nel momento pulmine della crisi tendiamo a esaltare, a vedere come luminoso il passato più o meno recente, quando entreremo nella fase nuova allora tratteremo da medioevo il nostro passato e il medioevo, guardate tutte le leggende che sono attribuite, le leggende nere al medioevo per descriverlo come oscurantista, la caccia alle streghe, bruciare degli esseri umani, non sono vere, non nel senso che non siano esistite, ma nel senso che preesistevano e che poi hanno avuto come epicentro, proprio la caccia alle streghe, il 600, hanno avuto due secoli dopo che era finito il medioevo, tutto ciò che voi, che noi poi, perché io sono stato anch'io influenzato da questo tipo di formazione, di educazione, tutto ciò che viene attribuito di oscurantista al medioevo è tutto falso, è tutto descritto, perché anche quella è una tendenza dell'umanità, verrà un giorno in cui saremo in pieno rinascimento e verrà presto, perché adesso i tempi si sono velocizzati, verrà un giorno in cui la ripresa sarà potente, l'umanità si compiacerà di essere passata oltre il periodo che stiamo vivendo o che abbiamo appena vissuto e in quel periodo voi vedrete che nascerà una tendenza opposta, una tendenza a descrivere come arcaico, brutto, disprezzabile il mondo che ci ha preceduto, il mondo della nostra giovinezza o della nostra infanzia. Bene, quel giorno io ero qua a Saluzzo e vi prenderò uno per uno e vi dirò guardate che anche questo è un luogo comune da capovolgere, anche questo fa parte della storia dell'umanità, fa parte della storia dell'umanità e come abbiamo imparato a non demonizzare il medioevo, a non guardarla come un'epoca da ripudiare, ma anzi come un'epoca da amare, l'epoca in cui che ci ha dato i Natali, che ha dato origine a quello che siamo oggi e così imparata, impariamo tutti a non disprezzare anche quello che eravamo fino a 5-10 anni fa, però adesso è un discorso prematuro, aspettiamo prima che sia iniziato questo rilancio, questa stagione, la nostra stagione riuscimentale che nasca nella pittura, nelle arti, di vivere in questo mondo nuovo che ci saremo guadagnati e poi verrà il giorno in cui tornerò a Saluzzo a fare questo sermone. Grazie. Adesso io non so se ci sono state tre domande perché non vedo assolutamente nulla. no, non sono arrivate domande. E allora mi limito a tornare a Saluzzo, io vi ringrazio veramente, permettetemi non faccio parte dell'organizzazione, però vi ringrazio come se ne facessi parte, ho avuto l'onore di chiudere questo festival sul Medioevo e vi dico che il giorno in cui festeggeremo, quel giorno a cui vi ho dato appuntamento, bene, quel giorno questa iniziativa di sfidare il senso comune e di dedicare un festival al Medioevo fatta da loro che l'hanno organizzata, ma da Saluzzo più in generale, beh insomma ce la ricorderemo. Questo sarà un festival che prenderà sempre più piede, che diventerà sempre più noto in Italia, ma anche fuori dai nostri confini e è nato in piena pandemia, più o meno, sarà nato, credo che sia iniziato l'anno scorso, io lo vedo come il primo seme della ripresa e io come tale lo ricorderò, ma vi invito anche voi a considerarlo come un segno di reinizio, proprio passando dal gettare un fascio di luce su un'epoca che ingiustamente è stata demonizzata. Grazie ancora. È arrivata in estrema domanda. Lo sapevo, me lo sentivo, allora mi risiedono. È molto semplice, allora, si vuole chiedere se le tendenze... Ma chi c'è? Chi ha fatto la domanda? Facciamogli affare a lui. Ah benissimo, dai che così sentiamo, dalla vera voce. Se l'influenza ha avuto nel progresso la tendenza verso sinistra nel mondo, cioè il progressismo politico del mondo ha aiutato la ricchezza? Allora, è una domanda complicatissima, dovrei dedicare un'ora alla risposta, ma la metto così. Ci sono due forme di progressismo, il progressismo della spinta e il progressismo del potere. La prima sicuramente ha contribuito il progressismo della spinta è, indipendentemente dalla sinistra, dal movimento operaio, che sono i poveri, gli oppressi, che capiscono che hanno una dignità e si mettono in movimento, lottando, a volte ricorrendo anche alla violenza, ma questo anche nell'antichità, per ottenere che questa dignità, il lavoro e le cose vengono riconosciute e non debbano vivere come animali. Quello ha un enorme valore, poi c'è un momento in cui i loro rappresentanti di questi oppressi, sono stagioni molto diverse, si costituiscono in potere, quello invece no, quello non ha avuto grande valore, anzi spesso i rappresentanti degli oppressi, una volta, spesso, quasi sempre in realtà, una volta costituitesi in potere, si sono portati in maniera più oppressiva di quanto erano quei poteri contro cui gli oppressi precedenti si battevano. Ripeto, lei la domanda me l'ha posta sotto forma della sinistra, io sto parlando dei movimenti di ribellione, di oppressione in tutta la storia dell'umanità, quindi parlo anche dell'antica Grecia, dell'Egitto, dei Faraoni, dell'antica Roma, è sempre a questa costante che poi ha avuto anche col movimento operaio dell'Ottocento, nel senso che aveva un valore forte nel momento della spinta, fino alla metà del Novecento, ma man mano che si costituiva in potere organizzazioni burocratiche e gerarchiche, si sono rivelate controproducenti e spesso si sono dissolte nel nulla, in una crisi, non hanno prodotto nessun modello espansivo che abbia fatto sognare, se non come mito, l'umanità. Però a volte sono state utili, durante, lo dico con un qualche cinismo, durante la Seconda Guerra Mondiale, il fatto che ci fosse l'Unione Sovietica, uno di questi modelli è stato fondamentale per distruggere il nazismo, però c'è sempre un discorso complicato da fare, perché come sapete l'Unione Sovietica si alleò durante la prima fase della Seconda Guerra Mondiale con i nazisti, dal settembre del 1939, dall'agosto del 1939 fino al giugno del 1941, quando poi i nazisti fecero il tragico errore per loro, per fortuna, fortunato per noi, di aggredire l'Unione Sovietica, erano di fatto alleati. Però sarebbe ingiusto non ricordare che se non ci fosse stata l'Unione Sovietica, nella seconda parte della Seconda Guerra Mondiale, chissà dove saremo oggi. Ma guardi che questi problemi di cui stiamo parlando si pongono anche nel Medioevo. Tutti, come dicevo, tutti i movimenti religiosi più combattivi nella storia del Medioevo e dopo il Medioevo fino ai Luterani si pongono tutti, per usare la sua categoria, come le sinistre del loro tempo. Sono tutti pauperisti, ribelli per il riconoscimento del rapporto dell'uomo con Dio, sono fondamentali. Però quando arrivano a prendere i poteri bruciano gli uomini, anche Calvino, anche i protestanti. Portano dei difetti che li fanno assomigliare e talvolta essere anche peggio dei loro predecessori. Per esempio ci sono nel mondo luterano, nello stesso Lutero, dei germi di antisemitismo. Si dà sempre la colpa alla Chiesa dell'antisemitismo, ma ci sono dei germi nel mondo luterano che ben studiati fanno impressione. Un discorso complesso, però se lei mi chiede così, una risposta con un sì o un no, portano un valore? Sì, la portano un valore. La portano, almeno nella fase iniziale della loro vita, la portano un valore. Grazie. Grazie. Grazie a Paolo Milano.